Un confronto serrato con le attività produttive del territorio per programmare e risolvere eventuali criticità. L'assessore alle attività produttive del Comune di Nociari Inferiore, Antonio Franza, ha avviato una serie di consultazioni. Lunedì scorso il confronto con gli industriali il 18 settembre, il faccia a faccia con commercianti ed artigiani. Si chiuderà il 25 di novembre con l'incontro con i rappresentanti del mondo dell'agricoltura. Sono tanti i fronti aperti sul fronte del commercio in città. Si preparano i primi eventi, il primo ad ottobre, una sorte di notte bianca. Si guarda già al Natale e tra gli obiettivi dell'assessore Franza anche la creazione di un marchio d'eco. In realtà sono incontri conoscitivi, dopodiché illustreremo un po' quelle che sono le attività che l'assessorato e l'amministrazione intende porre in esse. Però noi vorremmo che insieme alle idee che all'amministrazione possano arrivare anche quelle appunto di queste realtà in modo da camminare insieme verso un percorso che possa avere poi delle ricadute positive sul territorio. Sicuramente il nostro lavoro avrà ricadute anche su altri settori. Non a caso insieme all'assessore Fortino, all'assessore alle politiche giovanili e culturali stiamo mettendo in campo già una serie di iniziative. A breve partirà un avviso pubblico per la realizzazione di uno spot video che avrà il compito di valorizzare quelle che sono le risorse produttive a nocere inferiore. Dopodiché ci concentreremo sulla denominazione comunale di origine che non è una certificazione di qualità ma è la carta di identità di un prodotto, il made in noceta per intenderci. E abbiamo pensato di abbinare a questa iniziativa anche un'altra che è quella dell'ideazione del loco d'ego attraverso un concorso pubblico di idee. Nell'intervento che vorremmo realizzare ad ottobre pensiamo per esempio all'agevolazione del parcheggio gratuito, dei ticket che si caricherà all'assessorato lo sviluppo economico da poi far sfruttare alle attività commerciali in ocerine.